Non gli prenda quel pazzoide dell'Enequist, non ha niente di meglio da fare che lasciare punti interrogativi verdi per tutta Arkham City. Ancora te, Batman? Dove sono? Che succede? Che domanda? Devo dirglielo? Oh, ha un'aria così confusa, forse dovrei proprio. Beh, è semplice. Ti ho messo in testa una piccola minuscola idea. Una specie di suggestione ipnotica a distanza. È tutto molto complicato, non credo che capiresti. Ma come vedi, ha funzionato. Ora sei mio, sei mio, è strange, non può farci nulla. Non vuoi bere il tuo tè? È un tè speciale. Il mio tè speciale. La mia specialità. Vai all'inferno, Gervis. In poche parole, ti ho fatto vedere ciò che più desideravi. Cos'è? Dimmi, dimmi, dimmi. Sei così prevedibile, proprio come Alice. Non fai mai quello che voglio senza una dose spropositata di controlli psicoattivi. Beh, se questo è quel che serve, meno male che tu li hai già presi. Basta solo il tocco finale. Un nuovo cappello speciale. Solo per te. Ora sei il mio soldatino, Batman. Farai tutto quel che ti dico. Farai tutto quel che voglio. No, 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 no. Non è giusto. Non puoi farmi questo. Non puoi vincere. Non puoi farmi la progettazione. Non puoi farmi il polco. No, no, per tal白 passarà. Oltre questa parte. Bello, vai tutto quel che idea. Che trucco è un telefono. Take up parola. Oh putzio. Eratia del regas. Grazie.